Presto i profughi magrebini dovranno lasciare l'isola di Lampedusa, parola del premier Silvio Berlusconi, così si è messa in moto la macchina del Viminale per individuare sul territorio nazionale siti doni ad accogliere le migliaia di clandestini in fuga dalla Libia e rivolta. E anche l'Irpinia dovrà dare il suo contributo in termini di ospitalità. La prefettura di Avelino è da giorni in allerta, soprattutto all'indomani dei primi consistenti sbarchi dei nordafricani quando si preannunciava l'ipotesi presto scartata di trasferimento di molti migranti nelle strutture alberghiere dell'Aceno. Adesso rispunta la prospettiva di accoglierli e quindi sistemarli negli ospedali dismessi. Nel capoluogo Irpino vi sono due grandi strutture idonee, il Moscati di Viale Italia e il Maffucci, due stabili svuotati nei mesi scorsi che potrebbero a questo punto essere usati come centri di prima accoglienza per i profughi libici. Ma il manager dell'azienda ospedaliera avelinese, il dottore Pino Rosato, ha fermamente bocciato questa scelta solo perché le vecchie strutture ospedalieri avelinesi sarebbero inutilizzabili. Ed è spuntata allora l'ipotesi di trasferire i profughi a Monteforte, nell'ospedale San Giacomo. Ipotesi appunto, al momento tutte da vagliare con estrema attenzione. Da Palazzo di Governo non sono arrivate ancora conferme in merito all'indiscrezione circolata nelle ultime ore. C'è attese, c'è anche molta perplessità sulla fattibilità della proposta avanzata da Roma. Allo Stato però la disponibilità strutturale in Irpinia vi sarebbe. Oltretutto in questa fase emergenziale tutto il Paese è chiamato a dare un contributo fattivo per risolevare l'isola di Lampedusa ormai allo stremo e per dare solidarietà vera agli extracomunitari sbarcati dalle classiche carrette che solcano il Mediterraneo e approdati sul nostro suolo per sfuggire alla furia delle milizie di Gheddafi.